Fratelli d'Italia metterà in campo le migliori energie a sostegno di Roberto Chiuto, come già assicurato al tavolo dei leader nazionali della coalizione, che hanno fatto una scelta di grande autorevolezza ed esperienza politica. L'unità e la coesione del centrodestra sono garanzia di governabilità e di chiarezza della proposta politica. A 24 ore dalla scelta del candidato presidente è intervenuta la coordinatrice regionale Vanda Ferro. Con i nostri uomini e le nostre donne lavoreremo per affermare il merito, tenere fermi i principi di legalità, trasparenza ed efficacia amministrativa, per puntare alla valorizzazione delle immense risorse della nostra terra, unico modo per creare sviluppo duraturo e dare occasioni di lavoro vero ai nostri giovani. Anche l'Udc sosterrà con forza, determinazione e convinzione la candidatura di Roberto Chiuto, la persona giusta per proseguire l'azione di Buon Governo, iniziata a gennaio del 2020 e per continuare nell'opera di rilancio dell'immagine della Calabria oltre i confini nazionali, proiettandolo in un'ottica internazionale grazie alle potenzialità che questa terra offre e che in pochi ancora conoscono. Lo scrive il commissario regionale del partito, Nunzio Testa. Con la scelta del candidato, la coalizione ha dimostrato unione oltre alla condivisione di valori ed ideali comuni. Grazie a tutti.